Mattinata d'inferno sull'autostrada A1 tra Piacenza e Parma. La fitta nebbia che offuscava la visuale prima delle 8 ha provocato diversi tamponamenti a catena all'altezza di Alseno in direzione Bologna. I focolai di incidente sarebbero stati almeno 4 con una ventina di auto coinvolte e i feriti sono almeno 25, due in gravi condizioni. Diverse persone incastrate tra le lamiere sono state estratte grazie al lavoro dei vigili del fuoco. Le forze del soccorso hanno attivato il protocollo per la maxi emergenza. Numerose le ambulanze presenti sul posto arrivate anche dal piacentino insieme alla polizia stradale. Per consentire l'intervento dei soccorritori il tratto autostradale tra Piacenza e Parma è stato chiuso. Sul lato opposto si sono create code per curiosi. Il traffico che si è riversato sulla via Emilia ha mandato in tilt la viabilità piacentina. In autostrada l'entrata consigliata verso Bologna è quella di Parma. L'uscita consigliata proveniendo da Milano è Piacenza Ovest.